In questa puntata ci occupiamo di Mary Ainsworth. Diciamo che questa puntata è un po' un proseguo e anche un ulteriore approfondimento del lavoro portato avanti da Volpi, che è nella puntata precedente, proprio perché Mary Ainsworth è stata una sua allieva e ha portato avanti tutto il lavoro legato all'attaccamento, per cui oggi in questa puntata vedrete degli elementi, vedete riprese alcuni elementi di Volpi e poi nello specifico la Mary Ainsworth è famosa per un esperimento fatto proprio in riferimento all'attaccamento. Iniziamo a conoscerla un po' meglio. Vissuta tra il 1913 e il 1999, è stata una psicologa canadese e ha collaborato a stretto contatto con John Volpi, si è specializzata proprio in psicologia dello sviluppo e si è occupata per l'appunto del lavoro sull'attaccamento. Infatti nel 1935 si era laureata in psicologia all'Università di Toronto e ha ripreso poi successivamente i lavori fatti dal suo maestro Volpi sull'attaccamento ed è proprio famosa per una procedura osservativa chiamata Strange Situation. Quindi elabora la Strange Situation che è del 1978 e su cui appunto ci baseremo in questa puntata. È una procedura osservativa standardizzata per valutare l'equilibrio tra il sistema di attaccamento e il sistema di esplorazione, perché abbiamo già detto nel lavoro su Volpi, nella puntata su Volpi, che è importante che il bambino riesca ad equilibrare il suo desiderio di esplorare l'ambiente con il suo desiderio di rimanere comunque attaccato alle figure di riferimento. Per cui è sbagliato, meglio non è normotipico, non è sano avere troppo attaccamento da un lato oppure troppa esplorazione dall'altro. È giusto trovare un buon equilibrio. E quindi lei si è occupata di questa Strange Situation per vedere i vari stili di attaccamento in bambini tra uno e tre anni. Quindi il presupposto di questa Strange Situation è che lo stile di attaccamento possa essere osservabile direttamente quando si crea una situazione di stress a causa di una persona estranea, qua riprende un po' Spitz, per cui il punto di partenza della Mary Hainsworth, che ha dato vita poi alla Strange Situation, è proprio il fatto che l'attaccamento, lo stile di attaccamento emerge in particolar modo nei bambini quando c'è una situazione stressante. E quando c'è una situazione stressante? Quando il caregiver si allontana e quando il bambino è da solo con un estraneo. E quindi questi saranno i due elementi, che vedremo perché poi lo vedremo passo passo, fondamentali nella Strange Situation. Quindi una situazione estranea in cui c'è un allontanamento della figura di accudimento e la presenza di una persona estranea, non conosciuta al bambino. In queste due circostanze si attiva lo stile di attaccamento e si può rilevare qual è lo stile di attaccamento. Nella scorsa puntata di Bolbe abbiamo proprio visto che ci sono vari stili. Quindi l'attaccamento sicuro, quello insicuro evitante, quello insicuro ambivalente, poi successivamente è stato anche aggiunto l'insicuro disorganizzato. Quindi poi comunque li rivediamo, perché alcune slide li ho volute rimettere appositamente proprio per, anche proprio per ripassare, perché la Mary Hainsworth non è avulsa dal lavoro di Bolbe per forza, perché lo ha proprio integrato. Vediamo adesso quali sono le fasi della Strange Situation, a partire proprio dal presupposto che abbiamo detto prima, che per scoprire gli stili di attaccamento dobbiamo mettere il bambino nelle condizioni di stress. E qual è la condizione più importante di stress? È la mancanza del proprio caregiver. È una situazione sconosciuta dove il bambino non ha dei punti di riferimento. Nella prima fase il bambino viene inserito all'interno di un laboratorio, quindi un setting adeguato, insieme alla sua mamma. Quindi mamma e bambino entrano all'interno di questo laboratorio. La madre rimane con il bambino, lo stimolo, l'aiuta a giocare, gli consente di esplorare l'ambiente, quindi di ambientarsi all'interno del laboratorio. Successivamente nella terza fase entra un estraneo, che resta un minuto in silenzio. Poi successivamente conversa con la madre un minuto e poi gioca con il bambino, quindi entra in interazione con il bambino. Nella quarta fase c'è la prima separazione, dove la madre esce e il bambino rimane da solo con l'estraneo. In questo caso si va ad analizzare proprio come il bambino, qual è il comportamento del bambino in riferimento a questa separazione e in riferimento alla presenza dell'estraneo. Cioè se prima, nelle prime tre fasi, il bambino lo si vede soprattutto nell'interazione con la madre, nella quarta fase lo si vede proprio nell'interazione da solo con l'estraneo e nell'allontanamento, quindi nella separazione con la madre. Nella quinta fase il bambino si riunisce con la mamma perché la mamma ritorna, saluta, conforta il bambino e lì appunto si va a vedere che cosa succede quando la mamma ritorna. E l'estraneo esce senza fare troppo rumore, quindi esce in sordina. Nella sesta fase abbiamo una seconda separazione dove la mamma si allontana ed esce nuovamente salutando il bambino. E all'inizio il bambino rimane per poco tempo da solo, entra l'estraneo di nuovo e quindi si vede qual è l'interazione, il comportamento dell'estraneo si modula in base a quello espresso dal bambino. Infine c'è l'ultima fase in cui la mamma rientra, saluta il bambino, lo prende in braccio e l'estraneo silenziosamente esce. Queste sono le otto fasi, adesso vediamo proprio punto per punto cosa succede e soprattutto quali sono gli elementi tipici a seconda dello stile di attaccamento. Allora, quindi l'attenzione sul comportamento della madre, sulla reazione del bambino, ma anche su come il bambino interagisce con l'estraneo. Se il bambino si fa consolare, se non si fa consolare dall'estraneo e se il bambino come interagisce alla riunione con la mamma. Quindi se la calcola, non la calcola, si arrabbia, piange ancora, piuttosto che è felice. Quindi si vanno a vedere tutti questi elementi. Eccoli qua, allora vediamo innanzitutto come è la mamma. Nell'attaccamento, perché ovviamente quando tu vai a studiare, soprattutto nella strange situation, non guardi solo il bambino, guardi anche l'atteggiamento della mamma. Quindi innanzitutto vediamo che nell'attaccamento insicuro evitante l'atteggiamento della mamma è un atteggiamento intrusivo, cioè sta troppo addosso, molto stimolante, molto controllante, oppure al contrario è molto evasiva. Quindi qua ci possono essere due poli opposti. Da un lato una mamma veramente molto intrusiva, che sta molto addosso al bambino, molto stimolante, molto preoccupata, molto presente e molto controllante. Dall'altro lato una mamma molto evasiva, che non c'è, che non è molto presente. Questo è tipico proprio nell'attaccamento insicuro evitante. Attaccamento sicuro, invece, la mamma è presente, equilibrata. Ecco, equilibrata è il termine forse che mi piace di più, perché è il giusto mix tra l'esserci e il consentire al bambino di poter esplorare l'ambiente. Poi nell'attaccamento insicuro, ansioso, ambivalente, abbiamo una certa non sintonizzazione con il bambino. Quindi la mamma non riesce a sintonizzarsi alle esigenze, è ambivalente, in un momento c'è, in un altro momento non c'è, è imprevedibile. E quindi questa cosa porta ansia nel bambino. Poi abbiamo l'attaccamento disorganizzato, in cui proprio la figura di attaccamento è la fonte proprio di paura, di pericolo. E questi sono casi estremi, in cui si hanno maltrattamenti, abusi, eccetera. Vediamo le conseguenze del bambino. Perché se abbiamo detto che nell'attaccamento insicuro e evitante la mamma è o molto intrusiva o molto evasiva, il bambino tenderà ad evitarla. Ad evitarla perché o gli sta troppo addosso, oppure perché è abituato proprio ad essere autonomo, perché la mamma è evasiva. E quindi il punto è la ricerca dell'autonomia. Nell'insicuro e evitante c'è una maggiore ricerca dell'esplorazione piuttosto che non dell'attaccamento. L'attaccamento sicuro invece il bambino è equilibrato, quindi rimane in equilibrio tra la ricerca di esplorazione e la ricerca di attaccamento. Mentre nell'attaccamento insicuro e ambivalente abbiamo un bambino che ricerca tantissimo l'attaccamento della mamma. Proprio perché questa mamma è imprevedibile, ha paura, ansia da separazione, inconsolabile. In questo caso nell'attaccamento insicuro e ambivalente, ma poi lo vedremo, il bambino è disperato quando la mamma va via, quando la mamma non c'è. E poi gliela fa pagare quando torna. Nell'attaccamento disorganizzato il bambino non ha un'organizzazione interna, non si sente legno di essere amato, si allontana, si spaventa, si riavvicina. Cioè è completamente disorganizzato anche nella ricerca degli stimoli e questo è, diciamo, i casi più estremi. Quindi abbiamo detto che la strange situation è una procedura sperimentale classica in otto fasi, che valuta il bambino all'incirca di un anno. Qua vedete alcune foto. E le tre domande che si pongono principalmente, ci si pone, è il bambino ricerca la vicinanza della madre? Il bambino mette in atto un comportamento esplorativo? E il bambino protesta la separazione dalla mamma? Perché uno può pensare, dovrebbe essere normale che il bambino non protesti, no? In realtà è giusto che il bambino protesti quando la mamma non c'è. Certo, bisogna trovare il giusto equilibrio, che riesca a capire che la mamma torna. Quindi, questo è un recap che vi ho fatto per quanto riguarda le otto fasi. Abbiamo la familiarizzazione con l'ambiente, la mamma e il bambino che giocano insieme, entra l'estraneo e si siede, la mamma esce e il bimbo rimane con l'estranea, la mamma rientra e l'estranea esce, la mamma esce e il bimbo rimane solo, rientra l'estranea e rientra, ma la mamma e l'estranea esce. Qua vi ho messo proprio uno schema per capire che è importante valutare proprio come il bambino si pone all'interno di questo continuum, cioè tra una ricerca dell'esplorazione e la ricerca di attaccamento. Adesso, proprio nelle prossime slide, vediamo esattamente cosa succede nei vari stili di attaccamento. E sì, perché nell'attaccamento insicuro evitante c'è un disequilibrio verso l'esplorazione, perché il bambino tende di più ad esplorare piuttosto che rimanere attaccato. Quando la mamma c'è, il bambino non se ne cura minimamente ed esplora l'ambiente, quindi parte subito in quarta ad esplorare l'ambiente in modo piuttosto autonomo. Quando la mamma non c'è, il bambino non protesta, continua con le sue attività, impegnato magari nel gioco, e quando la mamma torna, il bambino non fa particolari feste, non è che se ne cura particolarmente, continua a fare ciò che sta facendo. Quindi è evitante, come dice la parola, proprio perché evita il rapporto con la mamma a fronte di un'attenzione maggiore nei confronti dell'ambiente e dell'esplorazione. Cioè paradossalmente l'estraneo potrebbe essere, nell'attaccamento insicuro evitante, potrebbe essere uno stimolo interessante, il bambino si può legare facilmente con l'estraneo. Nell'attaccamento insicuro ammivalente invece è il contrario, c'è un disequilibrio verso l'attaccamento. Il bambino è, la mamma essendo ammivalente, porta il bambino ad essere insicuro. Quindi quando la mamma c'è, il bambino sta attaccato alla mamma, non esplora l'ambiente, vuole sempre stare attaccato alla mamma. E quando la mamma non c'è, il bambino è disperato, è inconsolabile, nemmeno l'estraneo riesce a consolarlo. E quando la mamma torna, il bambino è arrabbiatissimo, gliela fa pagare. Perché? Perché te ne sei andata via, mi hai lasciato da solo, e quindi questo ha riprova del fatto che allora io adesso mi sto attaccato a te. Quindi qua proprio c'è una forte ansia da separazione. Quindi qui vi ho rimesso proprio la differenza tra un sicuro, che è al centro, che è un attaccamento sicuro perché è equilibrato, verso, più verso l'esplorazione è un attaccamento di stile evitante, e invece più verso l'attaccamento è di stile ambivalente. Allora, l'insicuro disorganizzato non ha una organizzazione interna, perché se quello evitante e l'ambivalente hanno comunque una propria organizzazione, una propria strategia di coping, in realtà nel disorganizzato c'è proprio un fallimento totale nella relazione con la madre. Per cui non c'è in realtà una sicurezza. Cioè se nell'insicuro e evitante c'è una maggiore ricerca dell'esplorazione, nel disorganizzato oggi può essere così, domani può essere colà. Oggi va così, ma tra due ore potrebbe cambiare. Quindi non c'è un'organizzazione interna legata all'attaccamento, proprio perché è mancata la relazione con il caregiver. Come la mamma? Allora, rivediamo questo aspetto. Attaccamento sicuro è sensibile alle richieste del bambino. L'attaccamento insicuro evitante, la mamma, può essere di due tipologie. Attaccamento, atteggiamento intrusivo, eccessivamente stimolante e controllante, oppure al contrario, evasivo. L'attaccamento insicuro ambivalente, la mamma è ambivalente, cioè non riesce a sintonizzarsi. Un momento è così, l'altro momento è colà. Un momento si avvicina, l'altro momento si allontana. Mentre nell'attaccamento insicuro disorganizzato, abbiamo proprio una mancanza totale. Addirittura la figura di accudimento, che deve essere fonte di amore e di sicurezza, rappresenta invece l'odio, la paura, l'insicurezza, i maltrattamenti e gli abusi. Quali sono le conseguenze sul bambino? Le conseguenze sono nell'attaccamento sicuro, il bambino è equilibrato, si sente degno di essere amato, di essere al mondo, di avere fiducia anche nei confronti degli altri e di se stesso. Nell'attaccamento invece insicuro evitante, il bambino non è degno di essere amato. È meglio esplorare il mondo, è meglio essere indipendente, è meglio trovare la propria autonomia perché della propria figura di accudimento non ci si può fidare. Nell'attaccamento insicuro ambivalente c'è questa mancanza di fiducia anche, ma proprio perché si ha paura che non ci sia una sicurezza anche nel mondo, allora che il mondo sia imprevedibile, allora lì parte la paranoia. Parte la paranoia, l'assia, la separazione e i problemi legati proprio alla paura di perdere l'oggetto amato che può essere il caregiver o in età adulta il proprio partner. L'attaccamento invece insicuro e disorganizzato, il bambino è spaventato, non ha sicurezze in nessun capo, non riesce neanche a scegliere inconsciamente se spostarsi verso l'esplorazione o spostarsi verso l'attaccamento perché non è proprio organizzato. Benissimo, io ti aspetto nella prossima puntata, scrivimi qui sotto se ti è piaciuta questa puntata, se vuoi approfondire, se sei d'accordo con il lavoro fatto da Mary Ainsworth e ti invito ad iscriverti al mio canale, a cliccare la campanella per le notifiche e poi ti invito anche sugli altri miei canali social. A presto!